Allora Walter, comincio da te. Questo è il quadro che abbiamo fatto noi, abbiamo messo a disposizione delle istituzioni. Innanzitutto io ti ringrazio e ringrazio Gimbe per questa mattinata perché io vengo da due giorni di workshop preparatorio del Consiglio dei Ministri che si terrà a giugno sotto Presidenza Maltesi. Quindi abbiamo fatto due giorni maltesi in cui abbiamo preparato la bozza di risoluzione del Consiglio dei Ministri che verterà sostanzialmente su due cose, la cooperazione strutturata tra Paesi e le modalità in qualche modo di accesso ai farmaci ad alto costo. Queste sono le due priorità della Presidenza Maltese e da quella discussione è emerso chiaro che il momento storico è il momento tipico in cui i Paesi se la dovranno cavare da soli. Cioè sostanzialmente c'è in questo momento, peraltro ieri è uscito proprio il documento del Presidente Juncker e anche una presa di posizione che noi come Società Europea di Sanità Pubblica cercheremo di fronteggiare in cui addirittura Juncker lo dice proprio esplicitamente, un po' come fece Tremonti quando passò nel 2001 la legge sulla regionalizzazione. Ve la dovete cavare da soli e quindi ce la dobbiamo cavare da soli e quindi dobbiamo elaborare un modello che in qualche modo regga. Seconda, voglio sottolineare, ma questo è il realismo, ci piaccia o no, noi siamo un Paese in cui per smuovere la massa dei professionisti, delle strutture, cioè non basarsi sempre su quella piccola serie di iniziati, cioè di persone che illuminate cercano di anticipare, ma che però poi non hanno seguito nelle migliaia, centinaia di migliaia di persone che lavorano, noi abbiamo bisogno di leggi. Ok, questa è una realtà, tant'è vero che io voglio cogliere, se ci fosse qui Renato Balduzzi, Fulvio Moirano, Francesco Bevere direbbero la stessa cosa, come è nato il DM70, su cui noi abbiamo parlato, era il governo Monti, Renato Balduzzi andò in Consiglio dei Ministri con l'input di tagliare, di mettere quel taglio lineare, si chiudono tutti gli ospedali al di sotto dei 120 posti letto, con Fulvio Moirano, avevamo peraltro già anche con Renato Botti, con Giovanni Monchiero, cioè soprattutto nell'ambito della società italiana Medici Manager, avevamo da tempo detto che non era quello l'approccio, il risultato è stato questo tavolo in pieno agosto nato, in cui c'era Fulvio, c'era Franca Enrichens, c'era Francesco Bevere, allora direttore, in cui si sono messe le cose che io sono d'accordo con Gabriele, che non so se è andato via, certamente è una risposta semplice a un problema complesso, ma è il presupposto per cui poi si può affrontare. E la stessa cosa avviene per la legge sulla responsabilità professionale, che chiaramente nel migliore dei paesi possibili non dovrebbe passare attraverso una legge, dovrebbe essere il sistema formativo, cioè la formazione dei medici che comincia a formare i medici nella maniera da rispondere a quelle sfide. Noi sappiamo meglio di tutti che i nostri medici che vengono formati mediamente bene nelle facoltà di medicina, però non sono i medici che sono pronti ad affrontare quelle sfide, sono in larga parte medici formati per lavorare in ospedale, non hanno visione sistemica, hanno ancora una concezione della medicina un po' elittaria, se vogliamo, non quella che diceva Fausto Nicolini, tipica dei network che lavorano con altri professionisti. La motivazione, lo dicevamo prima con il professore Garattini, sono gli operatori sanitari meno pagati dopo i greci e i portoghesi d'Europa, voglio dire, questo ci sarà pure insomma qualche elemento che voglio dire porta a questo tipo di comportamento, dice tu quando ti muovi per il privato ti muovi, ma quando invece stai per il pubblico, però negli altri paesi a fronte di una remunerazione, in certi casi 3, 4, 5 volte maggiore, c'è un accountability, voglio dire, non è che io ti pago per fare quello che vuoi, ti pago perché ogni due anni, ogni tre anni mi dimostri che hai studiato, che ti sei aggiornato, ti pago se non mi dici corbellerie sui farmaci omiopatici, ti pago se tu non mi dici corbellerie sui vaccini, ti pago se tu mi pratichi una serie di attività, cioè faccio una serie di riflessioni che in qualche modo rendono i medici accountable. E poi c'è la sanzione, diciamo che in certi paesi c'è, voglio dire, se tu non ti vaccini contro l'influenza e lavori in ospedale, se tu non ti vaccini contro il morbillo, come sta succedendo a me in questo momento in Piemonte, in cui c'è una microepidemia di morbillo perché i medici non si vaccinano contro il morbillo, paghi, in certi casi addirittura ti licenzi. Allora, questo dato di partenza depone comunque, io lo guardo positivamente, cioè c'è un fervore nel nostro paese, alcuni casi spontaneo, che deve essere sistematizzato. Noi siamo molto contenti come istituto e io ringrazio tutto il Parlamento perché dopo una serie anche di sollecitazioni che sono arrivate soprattutto dal Senato, affidato all'istituto questo ruolo, noi siamo certamente centrali. Uno, io parto come dice la legge, la standardizzazione della metodologia. Non ci dobbiamo inventare niente, ok? Voglio dire, noi dobbiamo seguire quelle che sono le regole per l'elaborazione dell'equina che ormai si sono, diciamo, consolidate e migliorate nel corso del tempo in tutto il mondo. Quelle che seguono, dobbiamo naturalmente adattarle alla realtà italiana. Seconda cosa, dobbiamo produrle o farle produrre oppure coordinare il modo con cui le producono. È chiaro che quello che il dottor Laganà ha elencato è un elenco di punti di forza e di debolezza. Andremo a cercare di aumentare e consolidare i punti di forza e limitare i punti di debolezza. Le due parole sono ancora una volta la trasparenza, quindi tutto quanto che in qualche modo possa essere in una casa di vetro, noi ci stiamo attrezzati, anzi ci eravamo già attrezzati onestamente per fare questo lavoro con delle strutture dedicate, Centro Nazionale per l'Eccellenza Clinica, la Qualità e la Sicurezza delle Cure, dottor Iannone, direttore che sarà depositario del Sistema Nazionale di Le Guida, Centro Nazionale per le Technology Assessment, direttore dottor Marchetti, che peraltro grazie al lavoro del direttore generale hanno già i loro spazi, peraltro comuni, cioè abbiamo fatto come ha fatto un po' il Nice Auton Street un po' di anni fa, li abbiamo messi insieme in maniera tale che non si creino quegli effetti... Da stanza separati. Finisco dicendo che certamente il Ministero adesso ha un ruolo, quello di accreditare non 400, io immagino che poi alla fine saranno, ma un numero ridotto di società scientifiche che hanno gli elementi cruciali per partecipare. E' chiaro che poi sarà anche una nostra analisi quello di vedere se questa condizione necessaria dell'accreditamento nella lista del Ministero poi possa diventare una condizione sufficiente per partecipare attivamente. Anche perché noi continueremo ad osservare. Non è che tu hai i requisiti automaticamente se sei in grado di produrre. Però io sono ottimista, nel senso che come nel decreto ministeriale 70, ci sono delle regioni, lo diceva prima Renato Botti, il Piemonte ha riorganizzato la propria rete ospedaliera. Non è un caso perché è come Irano. Certo. Eravamo, diciamo, stati quelli che un po' avevamo... Però ci sono altre regioni che l'hanno fatto. Però sono d'accordo con quello che diceva Tonino Asceti. Molto spesso alcune regioni tagliano quello che in qualche modo le può fare risparmiare immediatamente e non fanno quello che... E invece la sfida è fare tutte e due. Io penso che con questo lavoro noi possiamo andare avanti. Finisco dicendo una cosa. I medici che pure... Questa la devo mettere sempre come provocazione, quindi poi mi devi rispondere. Sì, guarda, allora, un po' onestamente, posso dirlo direttore, un po' di soldi li abbiamo recuperati. Nel senso che c'erano un po' di soldi, non lo dico completamente... Desinvestimento e riallocazione. Però fino a quando il direttore non mi dà la liberatoria, non dico da dove venivano, però insomma un po' di soldi importanti li abbiamo recuperati. Diciamo che noi siamo bravi a fare le nozze con i fighi secchi, nel senso che onestamente il nostro paese... Ma c'era il professor Piccio che mi diceva un po' di tempo fa che quando sono venuti gli americani al CTO a Roma hanno visto il servizio che lui gestiva, che era 24 ore su 24, con non so quanti mesi, ha detto questo. E infine, diciamo, da noi non potrebbe mai funzionare, ma perché i medici che lavoravano lì erano ovviamente sottopagati, abnegati, motivati, quindi noi abbiamo questa caratteristica di essere un paese che ha grande resilienza, quindi noi saremo in grado di farla. Ma soprattutto la sfida vera è quella di essere i registi, insomma i coordinatori, perché non lo faremo da soli, lo faremo con tutto il meglio e guardate questa sala e guardate tutto quello che c'è in Italia, ci sono dei centri importantissimi. Noi quei centri li vogliamo, voglio dire, strutturalmente in collaborazione, quindi non faremo da soli, ma faremo le cose insieme a quello che l'Italia offre, che è tantissimo, che in certi casi è eccellente, che però molte volte non diventa esattamente patrimonio nazionale. Per cui io sono moderatamente ottimista. Franco, la parola... Allora, io riprendo il concetto dell'accreditamento scientifico dell'elenco che sia, partiva da un'iniziativa di circa del 2004, che è stato poi non concluso per legislazione concorrente, eccetera, però aveva dei presupposti di necessità sotto questo punto di vista e quel decreto aveva fatto in modo che alcune delle scientifiche si erano accorpate, perché diventava un criterio di valutazione. Ora, purtroppo l'Italia è un paese in cui c'è bisogno di una legge per fare in modo che qualcuno si muova. Questo è un concetto di fondo. Quello che diceva prima è importante. Allora, la legge che è stata fatta tiene conto di queste cose che tu hai fatto vedere, ne tiene conto, perché dice che ci deve essere un ente superiore che certifica che la linea guida sia fatta secondo i termini di correttezza, eccetera, e però basta andare a vedere il sistema nazionale di linea guida, il piano nazionale di guida, c'è un volume di metodologia che è alto così, che può essere aggiornato, ma già esiste, non è che non c'è. Assolutamente. E alcune società scientifiche, non faccio nome, eccetera, che io conosco, hanno portato avanti un discorso di linea guida assolutamente trasversali, tanto da poterle vedere sul telefonino anche da parte del paziente, linea guida che sono state fatte multisocetarie, che riferiscono l'anno di produzione o di aggiornamento, che riferiscono qual è lo stato della malattia, quali sono le ipotesi, eccetera, bellissimo, che io ho usato per stimolare le altre società scientifiche a dire se volete io vi metto a disposizione questa stessa metodologia per fare in modo di riempirla di contenuti nei vostri singoli settori. Allora, l'Italia è un paese in cui, non si è coi fichi secchi, ma secondo me molte volte bisogna chiedere, se si chiede la gente fa. Questo è importantissimo e questa legge chiede di fare questo, chiede anche il concetto della trasparenza o del conflitto di interessi che dir si voglia, eccetera, chiede anche una trasparenza delle società scientifiche, che in effetti non c'è sotto questo punto di vista, perché lo vediamo anche dai siti, da come sono fatti, eccetera. Quindi un altro stimolo è cercare di fare in modo che si trovino le cose giuste nei posti giusti, nei momenti giusti, questo è estremamente importante. Quindi quello che io sto dicendo è importante che la legge abbia previsto e abbia già messo nero su bianco chi deve controllare, chi deve fare, con criteri metodologici. Nel meccanismo di reclutamento delle società scientifiche, è ovvio che se io metto tra i parametri, dimmi quali sono le ultime linee guide che tu hai fatto, con che metodologia negli ultimi due anni, probabilmente saranno poche. Però la logica non è quella di escludere to cure, la logica è quella di dire, cominciamo a vedere chi sono, cioè chi si mette lì e chi si presenta lì, perché io il numero di società che lui riferisce, non so se è vero o non è vero, io so quante sono le mie, può essere che tu sono quelle che hai trovato, no, sono quelle che hai trovato sui siti. Sì, sì, 403 ce ne risultano. Ecco, sì, ma siccome qualcuno diceva che erano 1000, 2000, eccetera. Io vi dico che quando c'è stata la presentazione del decreto Sirchia, il numero di società scientifiche che aveva messo lì le carte per farsi valutare erano 345. Tanto per dire, sicuramente poi alcune devono essere escluse. Sono passati 12 anni, quindi qualcuna nuova è nata. No, ma il concetto di fondo è che sicuramente qualche d'una deve essere escluse, eccetera. Assolutamente. È troppo grande il denominatore. Sì, è grande il denominatore, ma probabilmente siccome costruire una linea guida così come è previsto dal manuale delle linee guida non è una cosa semplice, è una cosa complicata. Sicuramente la logica è che io dovrò portare ad una... Cioè, non c'è il pericolo di avere anche 300 società scientifiche, poi quelle operative sono quelle lì. Cioè, questo è il concetto di fondo. E se però io metto uno stimolo a dire, se tu vuoi essere società scientifica, devi fare questo, se sei in grado di farlo, sì, benissimo, fallo. E qualche d'uno controlla. Non sei in grado, benissimo, associati a qualche d'un altro. E in tutto questo io chiedo a entrambi, diciamo, l'impegno reciproco di andare verso linee guida che siano multiprofessionale e multidisciplinare. Non possiamo avere tra tre anni le linee guida per le stoperose fatte dagli ortopedici, dagli reumatologi, dagli endocrinologi, perché ognuno di questi finirà poi per avere... Ecco, il compito di FISM è questo. Cioè, io quello che continuo a dire è che ogni società ha la sua indipendenza, ma nei discorsi trasversali l'indipendenza della singola società non paga. Cioè, deve essere un discorso trasversale, anche multiprofessionale, sotto un certo punto di vista, come in alcuni passaggi sui PDTA sta succedendo. Cioè, nel protocollo di terapeutici, c'entra l'idea società scientifica che si sta mettendo d'accordo per dire mettiamoci d'accordo assieme. Non è che la società di urologia ne fa una, di radioterapia ne fa una e l'altra. Si smussano gli angoli che fomentano poi gli interessi di categoria. avete la sua indipendenza. Esattamente è così. Quindi la logica è che bisogna superare questo momento di, diciamo, individualità per andare verso un qualcosa che permetta di sopravvivere alle società scientifiche da un lato, di fare un lavoro scientifico corretto, eccetera. Poi io qui sposto anche il tema su un'altra cosa. La linea guida, attenzione, c'è un problema, la linea guida è fatta bene per un paziente che ha una patologia. La multimorbidità è un problema grosso. È un problema enorme. Per cui bisognerà poi andare a definire quando io, per mantenere la mia valutazione personale come professionista, non applico quella linea guida perché il paziente ha più patologie e quindi io devo scegliere quale strada. La cosa importante è che io devo documentare le mie scelte. condividerle è estremamente importante. Vuol dire prima conoscerle perché se io non conosco quali sono le linee guida da applicare non posso dire che non la applico. Quindi diventa estremamente importante ed esiste il consenso del paziente e la condivisione del paziente nella scelta strategica basata su linea guida e su comportamenti è essenziale. Quindi io qui ritorno alla problematica importante che purtroppo manca e che il medico deve parlare di più col paziente è condividere le scelte che la scelta non è mettere una firma su un modulo. Assolutamente. Non è il consenso informato ma è il processo decisionale condiviso. L'altra cosa importante in cui vorrei portare le società scientifiche a ragionare non è tanto quello di fare le linee guida che lo Stato ha dovuto fare perché c'era una necessità impellente ma è quella di portare le società scientifiche a cercare di trovare un meccanismo di identificazione oggettiva delle competenze. Assolutamente. Perché solo questo permetterà di superare il discorso delle linee guida e di andare sul fatto che uno è operativo ed è capace di fare il suo lavoro. Quando ha determinate competenze. Una domanda finale per tutte e due. Walter, quanto tempo ci vorrà secondo te per fare entrare a regime il sistema di produzione? Cioè tra un anno quante linee guida potremo avere? Perché credo che gli operatori di settore hanno bisogno anche di capire quanto la macchina ci vorrà per metterle in moto. Io credo che il 2017 passerà per la sistematizzazione per la preparazione a quello che dice la legge. Cioè attivazione dei gruppi di lavoro stiamo già lavorando sul sistema informativo insomma cioè questo sarà il periodo di tempo in cui anche sarà necessario comunicare perché è molto importante che queste cose vengano comunicate. Il 2018 è l'anno in cui diciamo non voglio dire andiamo a regime però cominciamo a mettere al sistema e io credo che il 2019 sarà l'anno in cui andiamo a regime. Franco, sei d'accordo con i tempi? Sì e io vorrei però fare un'aggiunta la linea guida di per sé non salva la persona assolutamente la linea guida è un modo di comportarsi è un modo di porsi di fronte alla problematica quello che può salvare la persona è fare in modo che questa linea guida sia conosciuta capillarmente e sia applicata tutta la parte di diffusione e implementazione per l'implementazione e la condivisione delle linea guida e la identificazione di eventuali meccanismi oggettivi di verifica se la linea guida ha funzionato io penso di portarla verso le città scientifiche perché questo è il valore aggiunto ricordando un altro passaggio importante qui abbiamo parlato dei problemi della regionalizzazione non esistono le linea guida regionali cioè esiste una linea guida nazionale che deve essere buona dal nord al sud senza problemi e le società scientifiche di norma sono a valenza nazionale quindi non è possibile che in Lombardia si faccia una cosa in Sicilia se ne faccia un'altra quindi una logica anche di unione del paese su questi argomenti può essere estremamente importante grazie Walter in chiusura subito no l'ultima cosa volevo dire che un altro degli argomenti su cui si è discusso in cui tutta la commissione europea è assolutamente stanno lavorando solo su questo sono gli European Reference Network cioè gli European Reference Network io vi chiedo di andare a vedere sono sostanzialmente la risposta che la commissione europea vuole dare alla standardizzazione delle cure alla sicurezza dei pazienti al fatto che i cittadini muovendosi tra paese a paese trovino la stessa cosa gli European Reference Network praticamente coprono tutto quello saranno delle strutture organizzate in cui sostanzialmente verranno anche lì elaborate una serie quindi non siamo soli non so se mi spiego in questo processo abbiamo un processo europeo a cui però è importante che noi contribuiamo attivamente non siamo diciamo spettatori passivi e questo la legge ci dà la possibilità di parteciparci attivamente noi vi abbiamo dato un buon punto di partenza grazie a tutti per la collaborazione grazie